Ciao a tutti, perché lui non ci prova? Alcune donne si lamentano del fatto che, e sono più tante di quanto uno potrebbe immaginare comunque, perché escono con un uomo che magari conoscono, conoscono in chat, conoscono fuori, viene presentato eccetera, lui le invita, escono, fanno, ma lui si comporta da amico, non ci prova. E allora loro restano un po' bloccate perché a provarci loro sembra darsi della puttana, anzi lo dicono pure alle volte, dicono il sesso non mi interessa, mi interessa conoscere un rapporto di amicizia, ecco perché lui non ci prova? Ecco qua alcune donne trovano una giustificazione, dicono, ah non lo so perché, però lui mi ha detto che io lo eccito molto e lo attraggo molto. Ecco questo è un qualcosa che si generano per, diciamo, mantenere comunque, per evitare di castrare la propria femminilità. Perché bisogna dare, a parte casi rarissimi, per cui uno, diciamo, decide di non fare sesso, se un uomo è attratto, in qualche modo, se è eccitato, ci prova. Proprio per una spinta istintiva, anche una spinta emotiva, per cui sicuramente, per cui sicuramente ci prova. Ecco qua, le motivazioni per cui non ci prova quindi sono di due categorie. La prima è che non gli hai generato sufficientemente attrazione, cioè non gli hai generato sufficientemente, come dire, attrazione fisica e non sei riuscita a suscitargli quell'interesse di natura erotica. Per cui in questo caso ti conviene, nelle prossime uscite, valutare il fatto di provocare un po' di più. Provocare un po' di più cosa significa? Beh, provocare un po' di più significa utilizzare gli strumenti della seduzione femminile. Mettiti più femminile, usa i tacchi, utilizza delle strategie, per cui magari, che ne so, accavalli le gambe, ti si apre la gomma, si scoprono, che ne so, le autoreggenti, qualcosa, richiudi subito per non venire squalificata, diciamo, da un certo punto di vista. Oppure, che ne so, la scollatura, per cui anche qua non devi andare con le tette di fuori, però magari chinandoti in qualche modo si intravede qualcosa, in modo tale che dai degli stimoli. In questo modo, diciamo che dovresti avere più possibilità di stimolare, se non altro, la sua curiosità e spingerlo, diciamo, a fare qualche cosa. Un altro motivo per cui magari non ci prova è che ha nella testa un'altra donna e quindi è coinvolto fortemente con un'altra donna, per cui il vincolo è soltanto, diciamo, di questa natura. E allora tu dici, ma perché esci con me? Beh, magari perché appunto ti vede in te delle qualità, delle cose, ma fondamentalmente ti vede come un'amica. Insomma, se non ci prova è perché comunque ti vede come un'amica. Di fatto le motivazioni prevalenti sono quelle. Poi ci possono essere delle motivazioni di altra natura, però sono statisticamente abbastanza irrilevanti, quindi queste sono le principali. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!